in collaborazione con glam vision e ottima trento dai parcheggi off limits alle deviazioni del traffico città blindata per il g7 ecco i provvedimenti per il vertice sull'intelligenza artificiale e cosa comporteranno per i cittadini se c'è casa autonomia non c'è il pat passo indietro se ritorna con il centro sinistra dalla piccola demagri sul vetto di marchiori l'autonomismo non ha copyright a trento sarà dimezzato il numero di monopatteni a noleggio da fine marzo si passerà da 400 a 200 mezzi non esiste innovazione senza disobbedienza bisogna scardinare il tabù e il felicetti lancia un nuovo formato di pasta a identità golose l'altra montagna sotto corteccia in preordine il libro di pietro la casella e luigi torreggiani sull'epidemia di bostrico ottima trento dal 1997 consulenza ricerca e formazione il nostro impegno la tua crescita costante ottima trento punto it